E' stato un incontro proficuo e collaborativo quello di stamane in prefettura tra il ministro per il mezzogiorno Claudio De Vincenti e i rappresentanti di regione e comune sul piano per la riqualificazione di Bagnoli. L'occasione è servita a fare il punto sulle attività messe in campo e sui risultati già conclusi in un clima che lascia fuori tensioni e contrasti e vede al centro la cooperazione istituzionale, presenti al tavolo con il ministro De Vincenti, anche il commissario per Bagnoli Salvo Nastasi e l'amministratore delegato di Invitalia Domenico Arcuri. Conclusi i lavori sull'arenile nord, proseguono, ha sottolineato De Vincenti, le attività per la rimozione dell'amianto e la messa in sicurezza della colmata. E' stata inoltre avviata la caratterizzazione per le aree non sottoposte a sequestro, si lavora quindi alle bonifiche e al progetto di rigenerazione urbana. Apprezzamento e soddisfazione per l'esito dell'incontro è stata espressa anche dal sindaco Luigi De Magistris, che con l'assessore all'urbanistica Carmine Piscopo ha illustrato al ministro il progetto del comune per il rilancio di Bagnoli, conforme in buona parte con quello del governo. Finalmente quello che noi abbiamo sempre sostenuto si è realizzato, che le istituzioni ai massimi livelli si devono sedere attorno a un tavolo e cooperare. Abbiamo il presidente del consiglio attraverso il ministro del Mezzogiorno, il presidente della regione, il sindaco di Napoli e anche la municipalità Bagnoli fuori grotta. Le istituzioni cooperano, collaborano, si confrontano e oggi possiamo dire che il progetto che Napoli ha portato avanti per tanti anni all'80% è condiviso anche dal governo, c'è un 20% su cui lavorare ma le posizioni non sono tanto distanti, quindi credo che con questo metodo chiuderemo in breve un accordo storico sul Bagnoli. Sulla bonifica siamo già molto avanti perché è stata condivisa l'idea di Napoli, rimozione della colmata e bonifica integrale, il governo mette le risorse, hanno sottolineato l'importanza dell'ordinanza che inquina paga, quindi sulla bonifica siamo molto avanti. Adesso si chiude il discorso sul piano Bagnoli, all'80% siamo già d'accordo, bisogna discutere su alcuni punti, lo faremo nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, quindi se va come deve andare, se il livello di dialogo è quello che abbiamo visto oggi, io credo che prima dell'estate si può chiudere anche l'accordo su tutta Bagnoli. Al termine dell'incontro il ministro De Vincenti fa sapere che porterà le proposte del comune nella prossima cabina di regia su Bagnoli, e alla quale il sindaco è stato invitato a partecipare. Il comune ha ribadito De Magistris, declina l'invito ma continuerà a cooperare e a confrontarsi nei tavoli tecnici e istituzionali e nella conferenza dei servizi. I punti maggiormente critici sono che cosa fare a Bagnoli come servizi, perché il governo indica i servizi e quindi che cosa realizzare. Poi c'è il tema del Borgo Coroglio, c'è il tema di Nisi del Porto Turistico, questi sono i temi più controversi. Invece voglio dire che su Città della Scienza c'è una convergenza importante, arretramento di Città della Scienza, l'archeologia industriale si fa non sul mare ma a monte. Un altro risultato che reputo straordinario è che si è convenuto sul recupero della balneabilità, linea di costa, spiaggia pubblica, lungomare pedonalizzato e attrezzato, insediamenti anche produttivi ma a basso impatto, quindi non colate di cemento, un parco che non è il roseto della politica di un tempo ma è un parco che si integra col territorio, università, ricerca, edilizia pubblica, quella sufficiente e compensativa. Insomma mi pare di capire che il progetto Napoli sta andando oltre i confini della nostra città.